Grazie a tutti. Di soggiorno a donne straniere. Sono cinque gli arrestati che devono rispondere dei reati di favoriggiamento dell'immigrazione clandestina e permanenza illegale di stranieri sul territorio nazionale. Ci spiega tutto Paolo Renzetti. Avevano messo in piedi un'articolata organizzazione che si era specializzata nel combinare matrimoni di comodo tra cittadini italiani e donne originarie della Repubblica Dominicana con il solo obiettivo di far ottenere permessi di soggiorno regolari e poi la cittadinanza nel nostro Paese. A mettere fine al modus operandi, davvero ben congegnato da un sodalizio italo-dominicano, sono stati i carabinieri della Compagnia di Vasto che al termine di una lunga e complessa indagine hanno arrestato cinque persone e denunciato altri venti soggetti nell'ambito dell'operazione denominata Fake Mariage, che ha interessato oltre alla città aragonese anche i centri dell'Alto Vastese di Liscia, San Buono, Rocca Spinalveti, Guglionesi nel Molise e Vimercate in provincia di Milano. Diversi i matrimoni sospetti finiti sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri. Il tutto nasce da questa vedente donna che frequenta o comunque arriva in questo piccolo paese dell'Alto Vastese e suscita un po' l'interesse della popolazione e chiaramente dei carabinieri in loco. non passa inosservata la donna, non passa inosservata neanche quando va via, da lì parte questa attività di controllo, di indagine da parte dei carabinieri che cercano di capire come mai un uomo che non è né avvenente né ha grandi disponibilità economiche o una donna possa essere innamorata di questa persona. una parte di questa attività di indagine da cui appunto si arriva oggi a scoprire che questa donna aveva pagato sostanzialmente tramite un'organizzazione coordinata e gestita da queste due donne che oggi sono state arrestate con la collaborazione dei tre cittadini italiani che appunto pagavano per fare questi matrimoni e per ottenere prima il permesso di soggiorno e poi successivamente la cittadinanza. Ora torniamo a parlare di Sanitopoli. Ritiene la Corte che gli elementi probatori in atti siano insufficienti anche alla luce dei principi in diritto sopraesposti al fine di consentire di affermare la penale responsabilità degli imputati. Così i giudici a quei lani motivano la soluzione dell'ex governatore abruzzese Ottaviano del Turco, del consigliere regionale del PD Camillo Cesarone e dell'ex segretario generale della presidenza della giunta regionale Lamberto Quarta da diversi capi di imputazione. Anche per Cesarone Quarta c'è stato uno sconto di pene in appello. Al primo sono stati inflitti 4 anni, 9 anni in primo grado, al secondo 3 anni anziché 6 anni e 6 mesi in primo grado. Il che proseguono i giudici non sta ovviamente a significare che per detti reati Angelini abbia mentito che debba in relazione a ciò essere ritenuto nel complesso un dichiarante inaffidabile ma unicamente che il suo racconto non può ritenersi sufficiente per pervenire a una pronuncia di condanna per tali delitti al di là di ogni ragionevole dubbio. Ora invece ci spostiamo e andiamo a Terramo perché questa mattina c'è stata una visita istituzionale in procura del generale Michele Sirimarco da poco al comando della legione dei carabinieri in Abruzzo e questo è il secondo incontro con il procuratore guerriero per mettere appunto le sinergie per il contrasto della criminalità e il servizio di Elisa Leuz. La visita del comandante regionale dei carabinieri alla procura di Terramo è stata l'occasione per ribadire l'importanza dell'armonia con le forze dell'ordine e l'importante attività svolta sul territorio dall'arma dei carabinieri definita dal procuratore capo Antonio Guerriero la risposta di giustizia. L'arma dei carabinieri come tutte le forze dell'ordine sono l'espressione del respiro dello Stato e sono il sentimento di giustizia che alberga in ciascuno di noi che speriamo si realizzi soprattutto quando siamo vittime di ingiustizia. Quindi ringraziamo della presenza, dell'attenzione del signor generale che è testimonianza della particolare collaborazione con del proficuo armonia e stima che noi abbiamo verso l'arma dei carabinieri come per tutte le forze dell'ordine. Ci sono importanti attività in corso grazie proprio a questa sinergia? Come voi sapete abbiamo già svolto numerose importanti operazioni per cui abbiamo fatto già delle conferenze stampa e altre ce ne saranno nei prossimi mesi importanti proprio condotte dall'arma dei carabinieri come anche dalle altre forze dell'ordine perché come dicevo prima la criminalità soprattutto delle aree costiere ci determina notibili preoccupazioni. è un territorio che si sta frammentando dove gruppi criminali che appartengono sia alla criminalità del territorio che dei gruppi albanesi, rumeni, marocchini, roma che si sono alleati con questi gruppi della criminalità locale che hanno creato situazioni di notevole pericolosità con riferimento a vasti traffici di droga, armi che riguardano l'intera dorsale adriatica che vada da Rimini e Riccione fino alle Puglie e quindi stiamo parlando di decine, centinaia di persone con un grosso business, con una grossa impresa criminale perché stiamo parlando di quantitativi di droga, armi che sono imponenti e che riguardano l'intera dorsale adriatica. Il comandante regionale dei Carabinieri a margine dell'incontro si è anche soffermato su quelli che sono i fenomeni criminali riscontrati sul territorio abruzzese che ha definito ricco di criminalità organizzata. Ascoltiamo. Il territorio abruzzese è sicuramente un territorio dove si verificano tutti i fenomeni dove ci sono dei fenomeni in una misura tale però da poter essere controllati e da poter essere combattuti anche perché c'è un tessuto sociale che ha un grandissimo senso civico manca completamente l'omertà diffusamente per cui c'è una sorta di autocontrollo sociale che è quello che noi invidiamo spesso ai paesi del nord Europa ai paesi più evoluti, ai paesi occidentali in senso tecnico. Teniamo sotto controllo il traffico degli stupefacenti anche perché la regione Abruzzo è una terra di transito per i traffici che provengono dal nord, dalla Lombardia, dal Piemonte, dal nord Europa verso le terre dove si organizza il traffico degli stupefacenti come la Calabria. Per quanto riguarda i reati contro il patrimonio noi non abbiamo una delinquenza autoctona ma la maggior parte di tutti gli autori di reato che stiamo via via scoprendo vediamo che la maggior parte provengono da altre regioni vengono in questa regione convinti di poter trovare una rete di controllo meno fitta e tuttavia ci sono tantissime attività noi abbiamo una percentuale di scoperta di reati superiore alle altre regioni superiore alla media nazionale per cui proprio grazie a questo tessuto che c'è che evidenziavo c'è la possibilità di intervenire e di scoprire le organizzazioni criminali di disarticolarle e quindi di tenere un livello di allerta molto più elevato. La regione Abruzzo non è immune illecita contraffazione di marchi e illecita concorrenza con minaccia o violenza e trasferimento fraudolento di valori sono queste le tipologie di illeciti riscontrate con più frequenza da parte delle organizzazioni criminali operanti nel settore agroalimentare con il business delle agromafie che ha superato i 16 miliardi di euro nel 2015 e quanto emerso nell'incontro di ieri per la presentazione del quarto rapporto sui crimini agroalimentari in Italia elaborato da Eurispes, Coldiretti e Osservatorio sulla criminalità in agricoltura presentato a Roma alla presenza di ministri e vertici delle forze dell'ordine e della magistratura tra cui anche il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini un rapporto da cui si evince che l'intensità dell'associazionismo criminale è elevato nel mezzogiorno ma emerge anche con chiarezza come nel centro Italia il grado di penetrazione sia forte e stabile è particolarmente elevato in Abruzzo in cui la situazione è preoccupante nella provincia di Pescara seguita da Teramo e L'Aquila e ultima tra le quattro la provincia di Chieti nella classifica elaborata l'Abruzzo non passa inosservato la situazione è peggiore si registra a Pescara con un punteggio di 71,4 quinto posto in Italia seguita da Teramo con 31,5 L'Aquila 31,2 e Chieti 26,3 come fanalino di coda nella nostra regione ma il rapporto pone anche l'attenzione sul problema dei furti nelle campagne con dati macro-regionali dai quali emerge che è particolarmente diffuso l'ABGA ovvero il furto di bestiame e che per combattere i furti sono entrate in gioco anche le nuove tecnologie si tratta dunque di lavorare il commento di Coldiretti Abruzzo per il superamento della situazione di solitudine invertendo la tendenza allo smantellamento dei presidi e delle forze di sicurezza presenti sul territorio ma anche incentivando il ruolo dice Coldiretti Abruzzo delle associazioni di rappresentanza attraverso il confronto e la concertazione con la pubblica amministrazione perché la mancanza di dialogo costituisce un indubbio fattore critico nell'azione di repressione della criminalità La Cisla Abruzzo si dice fermamente contraria alla manovra del governo sulle pensioni di reversibilità e si dice anche pronta la mobilitazione Spina, la Cisla, Abruzzo e Molise è fermamente contraria a questa manovra che riguarda le pensioni di reversibilità perché? Non si può continuare a pensare di finanziare esigenze che ha la collettività sottraendo risorse direttamente a quelli che la crisi l'hanno di più sulle loro spalle pesa fortemente quindi come CGL e Cisleville siamo contrari alla delega che il Parlamento sta discutendo al governo per intervenire sulle pensioni nuovamente al fine di costituire questo nuovo istituto che è di sostegno alla povertà i soldi vanno presi in altre sedi intervenire continuamente sul sistema delle pensioni ormai è diventata una cosa assurda noi abbiamo bisogno viceversa che il sistema pensionistico venga reso flessibile perché ormai l'età pensionabile anche per la pensione di anzianità arrivata a 67 anni ci sono intori settori produttivi come quelli dell'edilizia ma tanti settori produttivi dove arrivare a 67 anni per poter andare in pensione rischia di mettere in discussione anche la propria esistenza di vita perché aumentano i rischi infortunistici siamo diventati in Europa la nazione dove si va più tardi in pensione era quella dove si andava prima ed era sbagliato ma adesso che siamo quelli dove si va più tardi si vuole ancora intervenire quando invece c'è bisogno di mandare aiutare le pensioni andare prima in pensione e far entrare i giovani visto la situazione occupazionale che c'è non siamo proprio d'accordo su questo provvedimento del governo se il governo insisterà e non convocerà le organizzazioni sindacali ci mobiliteremo sicuramente torniamo a parlare del caso di Ryanair dopo l'annuncio della dipartita della compagnia di volo è stato ascoltato il presidente della saga Nicola Mattoscio presso la commissione di vigilanza in regione per capire quale strade possano essere intraprese per far tornare sui loro passi gli irlandesi questo è il servizio di Alfredo Primante dopo le incomprensioni e le polemiche sulla convocazione in commissione vigilanza della regione del presidente della saga Nicola Mattoscio l'attesa audizione del numero uno della società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo c'è stata peraltro anticipata dal consiglio regionale straordinario svoltosi martedì a Pescara al di là delle divisioni di partito e delle diverse posizioni sulla gestione dello scalo aeroportuale abruzzese la volontà è quella di far sì che Ryanair resti a Pescara salvaguardando i posti di lavoro e soprattutto la cifra dei 600 mila passeggeri raggiunta nel 2015 mi pare di registrare un'attenzione crescente di tutta l'istituzione regionale ma anche dell'imprenditoria primata a volte a farsi carico delle problematiche emergenziali che si è determinato su questo importante scalo aeroportuale con la minaccia di abbandono da parte del vettore Ryanair che sappiamo essere un vettore prestigiosissimo e allo stato dei fatti imprescindibile per l'immediato futuro del nostro aeroporto la necessità che il vettore Ryanair rimanga è impellente così come altrettanto impellente che la Saga e il governo della regione Abruzzo si facciano carico di individuare soluzioni che si accompagnano alla soluzione Ryanair magari come dire cercando di attrarre nuovi vettori per il presidente della commissione di vigilanza Maurofebo di Forza Italia occorre fare pressione sul governo nazionale per eliminare l'aumento delle tasse aeroportuali e far restare il vettore low cost irlandese puntando al milione di passeggeri e quindi all'equilibrio di bilancio siamo da stimolo al governo regionale perché intervenga presso il governo nazionale eliminando quella odiosa tassa che è stata messa che ha scatenato le ire della Ryanair e soprattutto che sia di supporto la Saga per rinnovare un contratto che noi riteniamo essenziale per i 5 stelle puntare solo su Ryanair in passato è stato un errore e adesso un rischio che si sta pagando occorre quindi aprire ad altre realtà far dipendere la sopravvivenza dell'aeroporto d'Abruzzo da un unico vettore seppur prestigioso come il Ryanair è un rischio perché se va via Ryanair e lo abbiamo visto in questi giorni la sopravvivenza dell'aeroporto è compromessa per cui la scelta migliore che abbiamo sempre suggerito è quella di aprirsi a più vettori A Teramo la seduta di consiglio comunale dello scorso martedì con la commissione controllo e garanzia sulla situazione della Teramo Ambiente ha svegliato nuovamente le opposizioni teramane intervenute sullo scontro diretto avvenuto tra il primo cittadino e l'amministratore delegato della municipalizzata Team vediamo il confronto in consiglio comunale sulla situazione della Teramo Ambiente con sindaco Brucchi amministratore delegato Ranalli e ferri corti su debiti pagamenti servizi e decisioni interne sveglia le opposizioni teramane e le spinge a chiedere conto al sindaco del rapporto tra comune e partecipata degli ultimi 11 anni questo rapporto di credito non si comprende da cosa derivi perché come sappiamo a Teramo esiste la Tari la tassa su rifiuti e nel quale tutto quanto viene speso per fare la raccolta e lo smaltimento del rifiuto viene ripartito fra tutti i cittadini e viene utilizzato per pagare il servizio per cui non si comprende come avendo negli anni le attività economiche dei cittadini pagato tasse altissime dei rifiuti oggi il comune non paghi il credito vantato dalla Teramo per il servizio che è stato espletato quindi è una posizione che va assolutamente chiarita sia perché la Teramo va tutelata per il valore che rappresenta e sia perché il costo di questo servizio viene pagato direttamente dai cittadini che sappiamo in questi anni l'hanno pagato anche con molto sacrificio Il Movimento 5 Stelle va anche oltre chiedendo una commissione di inchiesta comunale Questa situazione è veramente critica poiché l'amministratore ha affermato che secondo lui se fosse stato per lui gli stipendi questo mese non sarebbero stati pagati poiché la Team è verso una grande crisi di liquidità e il sindaco non è riuscito a imporre alla Team alcune decisioni per quanto riguarda la spending review e il taglio delle consulenze e la cosa ancora più grave è che in sede di commissione di vigilanza e garanzia non siano intervenuti né il presidente e né il consigliere nominati dal sindaco che fanno parte del consiglio di amministrazione per dire la loro come parte pubblica contro eventualmente delle scelte scellerate da parte dell'amministratore delegato ecco tutto questo non è avvenuto e noi pensiamo che a questo punto Brucchi non ha più il controllo della nostra partecipazione si debba fare da parte e si debba costituire subito una commissione di inchiesta sui conti della Team e soprattutto sul futuro dei lavoratori che sono gli unici che faranno le spese durante tutto questo litigio tra Brucchi e l'amministratore delegato incontro questa mattina tra l'amministrazione comunale di Pescara e l'associazione ambientalista di categoria per illustrare quelle che sono le politiche ambientali verso gli obiettivi europei 2020-20-20 servizio sindaco Alessandrini oggi il comune di Pescara ha incontrato le associazioni ambientaliste per parlare del progetto 2020-20 ma per parlare anche del problema della qualità dell'aria Pescara già aver portato attorno ad un tavolo tutte le associazioni è stato comunque importante è emersa forte una richiesta di partecipazione più ampia che si è stesa anche ai sindaci dell'area metropolitana vasta noi avevamo il programma di vederli il 24 di questo mese naturalmente perché è chiaro che queste politiche hanno necessità di raccordi territoriali poi ci sono tante cose che si possono fare piccole cose dal nostro stile di vita a grandi cose e cioè penso alla mobilità in primo luogo che incide su questo si può agire diciamo dalla sostituzione delle caldaie all'efficientamento energetico degli edifici a cominciare dagli edifici pubblici da questo edificio e dalle scuole Pescara Gas svolgerà un lavoro importante con un investimento di un milione e mezzo nelle scuole di Pescara e oggi di questo e delle prospettive abbiamo parlato con appunto la piena consapevolezza che la questione ambientale centrale ci riguarda tutti punto importante anche quello dell'utilizzo dei mezzi pubblici a Pescara noi abbiamo diciamo di pari passo con le domeniche ecologiche previsto sino a marzo questa possibilità cioè il sabato e la domenica si circola nel trasporto pubblico dell'area vasta con un biglietto unico costa 1 euro e 30 dura tutta la giornata e si può andare ovunque la riflessione vogliamo estenderla più ampiamente al servizio pubblico di trasporto che va reso certamente più efficiente però bisogna sempre cominciare e questa è un'azione concreta è un dato di fatto e rappresenta un'opportunità ulteriore per appunto prendere il mezzo pubblico e lasciare la macchina in garage Ora apriamo la pagina dello sport iniziamo con le designazioni arbitrali delle abruzzese di Serie B sono stati designati gli arbitri della sesta giornata di ritorno e questi saranno per Cagliari Pescara diretta da Rosario Abisso di Palermo coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Intagliata per Spezia Virtus Lanciano invece l'arbitro sarà Luca Pairetto di Nichelino assistito da Bellutti e Calò Ora invece parliamo del Pescara in attesa del match di Cagliari si attende la conferma del ritorno in campo di Campagnaro intanto il tecnico Oddo sfoglia la margherita e merita anche il colpaccio intanto noi invece ci ascoltiamo l'intervista a Valerio Verre Pescara nelle ultime due gare che è apparso leggermente in flessione rispetto a quello che avevamo ammirato fino alla vigilia della gara con la Serenitana perché secondo te c'è stata questa flessione? Perché non si possono vincere tutte le partite Serie B sono 40 in tutto anzi noi abbiamo fatto una grande impresa perché siamo un grande gruppo e una squadra forte ecco non a caso sono venute con le sette vittorie consecutive ci sta ci può stare che magari ne puoi pareggiare due ecco non l'abbiamo persa l'importante è dare continuità dei risultati e cerchiamo di farlo anche a Cagliari a proposito della gara del Sant'Elia una gara difficile contro questa squadra che sta dominando il campionato il tecnico ha detto non firmo per il pareggio alla vigilia Verre cosa dice? io dico che andiamo lì per fare una grande partita per cercare di fare il Pescara come l'abbiamo visto in alcune partite cercare di imporre il nostro gioco giochiamo contro una squadra che non ha mai perso in casa quindi sappiamo la forza degli avversari ma sappiamo anche che il nostro gruppo è anch'esso forte sotto sotto i tifosi pensano anche che per una legge dei grandi numeri prima o poi questa sconfitta interna del Cagliari debba arrivare e perché no arrivare sabato prossimo sarebbe una cosa bellissima ecco poi la città ecco i tifosi ci crederebbero ancora di più verrebbero magari ancora di più allo stadio ma ci serve soprattutto il loro aiuto squadra praticamente al completo per la Virtus Lanciano sono già in viaggio per la Liguria dove domani affronteranno la squadra dell'ex piccolo e noi ascoltiamo il tecnico Maraiulo una partita veramente molto molto difficile però quello che sto iniziando a dire ai ragazzi è che proprio da queste partite quando le squadre avversarie sono costrette a vincere alla fine si può anche cercare di raggiungere un obiettivo importante però bisogna essere non solo molto intelligenti e tatticamente perfetti ma bisogna avere anche tanto coraggio ed essere predisposti a giocare a calcio siamo veramente molto consapevoli di andare a giocare contro una squadra importantissima è altrettanto vero che io non credo che ci sia allenatore che non voglia vincere la partita o che dica ai suoi ragazzi di giocare per non vincere è normale che nonostante la forza dello Spezia noi faremo in modo quantomeno di costruire la partita per quell'obiettivo poi potrà succedere come potrà succedere il contrario ora invece la Lega Pro dare una svolta al torneo il Teramo vuole scoprirsi vincente anche in trasferta domenica ad aprilia contro la Lupa Roma c'è l'occasione per conquistare i tre punti e fare anche un altro passo avanti verso la zona playoff moderato ottimismo invece c'è in casa bianco-rossa ci ascoltiamo le dichiarazioni del difensore Marco Perrotta sicuramente ora a gennaio si sono rinforzati sono una buona squadra poi sul loro campo comunque è comunque una squadra difficile da affrontare perché a loro servono punti come servono anche a noi quindi sarà spero e credo una partita molto bella e speriamo di vincere perché per noi è importantissimo sì sì siamo molto più positivi ma ancora non abbiamo fatto nulla perché comunque solo con una vittoria non andiamo da nessuna parte dobbiamo continuare questa striscia positiva e da qui alla fine fare le più vittorie possibili perché credo che ancora abbiamo un obiettivo in testa che possiamo ancora raggiungere quindi non non dobbiamo staccare mai la testa dobbiamo restare concentrati perché queste sono tutte finali per noi ma innanzitutto i 6 punti non ci pensiamo la prima cosa che pensiamo comunque è salvarci perché non siamo sicuri al 100% che comunque siamo solo a 6 punti se non sbaglio dai play-out quindi dobbiamo sempre guardarci le spalle ma il nostro obiettivo principale è quello diciamo dei play-off perché noi ci abbiamo creduto all'inizio anno e continuiamo a crederci anche se sicuramente non sarà facile perché abbiamo molti punti di stacco però come ripeto noi dobbiamo dare continuità al lavoro anche dell'anno scorso e quindi dobbiamo dimostrare a tutti quello che abbiamo fatto e dobbiamo continuare a essere noi stessi perché sicuramente molti di noi sono superiori e non meritano questa categoria come abbiamo dimostrato sia l'anno scorso che quest'anno e quindi da parte di tutti ci deve essere impegno massimo anche di quelli che sono arrivati per ultimi tipo forte perché sicuramente per me è un calciatore di categoria superiore l'ho dimostrato in tutte le partite e ora è arrivato anche il gol e quindi penso lo sta dimostrando e deve continuare così e poi comunque penso che sono il terzo posto ancora si può giocare possiamo giocare anche noi quindi non è niente di scritto mancano ancora tante partite dobbiamo dare il massimo e poi a fine campionato vedremo la classifica e ora l'Aquila Calcio il tecnico Perrone è orientato a confermare la formazione mandata in campo contro la Spala e a centro campo ci sarà una nuova chance dal primo minuto per il giovane Nicolas Bensage settimana delicatissima in casa l'Aquila in vista di un vero e proprio spareggio salvezza in programma sabato a Savona i rosso-blu dovrebbero confermare in blocco il 3-4-3 messo in mostra contro la Spala l'unica novità dovrebbe esserci nel quartetto della mediana dove l'infortunato De Francesco sarà sostituito da triarico sull'out di destra in attacco scalpita De Sousa per una maglia da titolare sicuro di un posto dal primo minuto il giovane mediano Nicolas Benzaia tornato nei radar del tecnico Carlo Perrone da diverse settimane dopo un lungo periodo trascorso in panchina Nicolas Benzaia un'occasione persa contro la Spala adesso si va a Savona per un vero e proprio spareggio salvezza sì un'occasione persa perché forse meritiamo qualcosa di più ma comunque si abbiamo parigiato sempre con la prima della classe e per noi è un onore e a Savona noi andremo lì per provare a vincere la partita in ogni modo perché sappiamo che per noi è importantissimo ecco come state affrontando la settimana c'è un po' di pressione proprio per questo motivo di dover vincere a tutti i costi no la pressione no noi stiamo allenando come tutte le settimane tranquillamente sappiamo comunque sia che sarà una partita fondamentale però se non otteniamo risultato continuiamo sempre per la nostra strada ecco a livello personale un periodo positivo vieni da ottime prestazioni dopo un periodo di inattività perché non giocavi con continuità ti sei fatto trovare pronto al momento giusto come è stato tornare in campo dopo dei mesi un po' appunto accantonato dal mister no io mi sono sempre allenato bene ho sempre rispettato le scelte del mister e poi sono stato bravo e fortunato a farmi trovare pronto al momento giusto il TG6 finisce qui e il prossimo appuntamento con l'informazione torna nell'edizione delle 23 grazie per essere stati con noi grazie per essere stati con noi